È la seconda edizione ma già un punto di riferimento, è il Roman Fiction Festival, la seconda edizione che si muove tra l'Auditorium della Conciliazione e la Sala Adriano. Sono oltre 700 ore di pellicole e 200 i titoli in concorso. L'evento è organizzato dalla Regione Lazio, dall'Associazione Produttori Indipendenti e dalla Camera di Commercio di Roma. Si tratta di rassegne, miniserie, film, documenti, docu-fiction, insomma tutta una serie di pellicole che verranno proiettate tra la Sala Adriano e l'Auditorium della Conciliazione. Siamo all'esordio della seconda edizione del Roman Fiction Festival. Stevie Della Casa, direttore artistico di questo evento, sta già diventando un punto fermo per la capitale, soprattutto sotto il punto di vista della fiction, anche perché nel Lazio c'è una grande produzione. Nel Lazio si fa quasi tutta la fiction italiana e vengono anche a girare, oltre che film, ma anche fiction dal resto del mondo. Un esempio più importante, forse l'abbiamo in programma proprio noi, è la seconda serie di Rom, che è una serie che adoro, che ha fatto lavorare Cinecittà, credo, per quasi un anno. Quindi per il Lazio credo che la fiction sia una delle industrie, proprio dal punto di vista degli occupati e dei soldi che mette in movimento, delle più importanti. Quindi credo che sia l'unico posto in Italia in cui poteva nascere un vero festival della fiction, oltretutto poi c'è anche l'attrattiva di Roma, che per gli stranieri è molto forte. E infatti non è un caso se tante star americane hanno accettato di venire in posti, loro che non vengono mai in manifestazioni, perché Roma comunque è sempre Roma. Ha un significato l'inaugurazione del Roma Fiction Festival con Raccontami. Sì, sono molto contenta che abbiano scelto Raccontami perché effettivamente merita, perché è rappresentativo della buona televisione che si fa oggi in Italia e anche della nostra storia, della nostra storia italiana proprio. Io quello che chiedo più che il tema che manca è il coraggio che chiedo in più alla televisione italiana, nel senso che i mezzi umani e materiali ci sono. Io credo che bisogna avere più coraggio. Noi stiamo facendo molto bene una fiction acquistata in realtà, perché poi i format vengono spesso dalla Spagna. E il successo arriva perché evidentemente anche il nostro lavoro è all'altezza.